Benvenuti ragazzi, quinto incontro dell'anno penultimo della stagione. Proseguiamo con Nero Frizzante, in collaborazione sempre con il concorso letterario Opera Prima, i nostri incontri con grandi scrittori contemporanei che vengono qua a trovarci a parlare dei loro libri. Oggi è davvero un piacere ospitare qui, è la seconda volta che è nostro ospite, perché la prima volta è stata ormai qualche anno fa, prima del Covid eravamo ancora intorno al 2018. Insomma il nostro ospite oggi qui con genitori Cercasi è Andrea Vitali, che salutiamo con ovviamente un applauso introduttivo, iniziale. Oggi è bello, come sempre, un gruppo qua davanti molto eterogeneo, classi di indirizzi molto diversi, età molto diverse. Il gruppo di Nero Frizzante è un po' decimato da gite scolastiche, esercizi spirituali, ma sono in tanti che ci stanno seguendo a distanza. Quindi iniziamo, ormai lo sapete, noi accogliamo gli iscrittori, i nostri ospiti, sempre con un video. C'è un gruppo video che quest'anno sta lavorando in un modo, fatemelo dire, veramente spettacolare, perché ragazzi ogni volta vi superate. Quindi bravi, 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 bravi. Ogni volta con questo video iniziale si vuole fare un book trailer, ma sempre un po' sperimentale, sempre diverso. E quindi oggi vediamo in che modo ci sorprenderete. Quindi un book trailer, una presentazione, un video, chiamatelo come volete, per introdurre l'incontro di oggi e dare il benvenuto ad Andrea Vitali. Buon incontro a tutti! La storia di un bimbo e dei suoi disgraziati genitori a cui lui sta simpatico come un attacco di diarrea il giorno del matrimonio. Lei è la scema che ha scelto il nome di Velarus. Lui è l'idiota che non si è opposto. Sti qua l'hanno una vita che dipende costantemente dal lavoro e non hanno il tempo nemmeno per farsi la doccia, tant'è che poi diventano dei brutti barboni puzzolenti. Si sono conosciuti per colpa di un tassista, una delle persone peggiori che possano mai esistere. Si sono innamorati perché sì e hanno fatto un figlio per lo stesso esatto motivo. Nel frattempo il tassista, avido come pochi, si è approfittato di sti due disagiati per fare soldi facili, facendo finta di curare il loro piccolo aborto con le gambe, che quindi cresce sempre più invisibile e incazzato con il mondo. In ogni caso, sembra che i suoi genitori non freghi una cippa, siccome i soldi non sono un problema e i soldi tappano i buchi e alla fine i soldi finiscono. Ma Genitori Cercasi è davvero questo? Il protagonista della storia è un ragazzo di nome Velarus, i cui genitori esercitano orgogliosamente la professione di imprenditori, 24 ore su 24, senza pause. I genitori di Velarus non hanno tempo di occuparsi del proprio bambino, che per questo motivo si sente profondamente solo e prova nei loro confronti un drastico ribrezzo. Per loro il cellulare è diventato un vero e proprio organo del corpo, dato che passano intere giornate ad utilizzarlo per cercare affari da cui trarre profitto. Così Velarus, a modo di sviluppare certi sentimenti, durante il tempo passato insieme alle persone improvvisate a cui ha fidato dai suoi genitori, tali soggetti non hanno il minimo interesse nei confronti del ragazzino. Quest'ultimo, effettiva vittima delle scuse che i genitori rifilano l'un l'altra per non accollarselo, finisce per essere solo, abbandonato a se stesso. Invisibile. L'efficace ironia di Andrea Vitali riesce a allenire la ferita provocata dalla tagliente tragicità dei fatti, i quali sfortunatamente sono il riflesso di una piaga della nostra società. Al giorno d'oggi, in giro per il mondo, sono numerosissimi i bambini con genitori assenti, i quali, a tutti gli effetti, per loro non esistono. Eppure, sono proprio i ragazzini come Velarus a diventare invisibili. E non solo per il padre e per la madre, ma anche per noi. Andrea Vitali, con genitori cercasi, prova a lanciare l'allarme. L'allarme di un problema che non siamo in grado di scovare guardandoci attorno, bensì sotto i nostri piedi. Le irresponsabilità di alcuni genitori e la non curanza nei confronti delle vite che dovrebbero avere più a cuore sono il risultato di decenni di una società che annega nel consumismo e nell'avidità e che genera essere incapaci di amare e di provare emozioni, se non quella del piacere di guadagnare. Per questo vale la pena leggere Genitori e cercasi di Andrea Vitali, per illuminarci di fronte ad un problema che rischia di alterare inevitabilmente il nostro mondo. Complimenti al filmato e soprattutto complimenti allo speaker perché ha un futuro da Anchorman, ma ci mancherebbe, detto col cuore, sempre che sia nei tuoi interessi naturalmente. Grazie mille ancora per essere qui oggi con noi a Nero Frizzante. Volevamo partire da una domanda che mette un po' a confronto questo suo libro con quelli precedenti perché abbiamo notato che è molto diverso dal suo solito stile. è perché è ispirato a una storia vera per caso e se fosse sì, se fosse no, puoi comunque spiegarci dove è originato questa storia? Ma grazie, allora no, assolutamente non c'è confronto con la narrativa precedente, è come si usa dire è un uovo fatto fuori dal cestino legato al fatto che di tanto in tanto mi piace abbandonare un po' i pascoli noti per andare a pascolare altrove e questo capita in un'occasione assolutamente particolare, ci vuole un motivo particolare per abbandonare la solita compagnia di giro, il solito coro di personaggi e anche il solito paesaggio perché giustamente tu facevi notare questa cosa, cioè che la maggior parte delle mie storie hanno un luogo ben preciso, un'epoca storica altrettanto precisa, beh in questo caso sono andato a pescare dentro me, soprattutto lo si diceva poco prima che iniziasse l'incontro ragionando sul fatto che io e la tecnologia non andiamo molto d'accordo, ecco è una cosa che dichiaro con serenità d'animo, insomma non mi mette in difficoltà, ad esempio questo affare che voi tutti conoscete alla perfezione, io lo maneggio, lo posseguo dall'ottobre 2022, mentre prima me ne andavo in giro con un Nokia, cosa che a voi non dice assolutamente niente, poi per delle ragioni particolari sono stato, cioè mi sono sentito costretto ad adeguarmi un po' alla realtà. Ma questo fatto, questa scarsa dedizione alla tecnologia mi ha sempre portato a notare invece come la tecnologia sia diventata nel corso degli anni pervasiva, invasiva, infettiva. Venendo qua per cominciare questo incontro in uno dei corridoi che ho percorso, ho visto dieci ragazzi seduti, ho contato, otto stavano maneggiando il cellulare, due no perché stavano mangiando, beati loro perché avevano fame. Ecco, è una serie diciamo di osservazioni si fatte che mi ha portato anni fa a cercare di immaginare una storia veramente distopica ma che avesse come motivo di partenza questa invasione della tecnologia, nella fattispecie il cellulare, oggi siamo invasi da ben altre cose. E come questo fatto ci distogliesse da momenti di relazione, da spinte anche dell'animo che pian piano vengono dimenticate, così come appunto fanno i due deficienti che hanno messo al mondo Velarus e non se ne curano assolutamente. Quindi alla domanda rispondo sì, è molto diverso, una delle tante ragioni è questa. Poi una cosa che mi piace sottolineare è che va al di là delle intenzioni della storia perché questa è una cosa che pertiene al diritto di noi lettori, noi lettori abbiamo il diritto di leggere e interpretare le storie che leggiamo secondo le nostre propensioni. Ecco, anche in questo fatto da che è uscito Genitori Cercasi nel corso dei numerosi incontri effettuati che avevano appunto come momento di incontro questo libro, a questa situazione di invisibilità ne sono state aggiunte molte altre, un'invisibilità non solo legata alla carenza d'affetto, alla carenza di un codice di educazione, alla carenza di una presenza genitoriale, ma un'invisibilità legata ad esempio alla malattia e questo mi ha fatto pensare agli anni passati come volontario in una comunità psichiatrica accanto a degli invisibili veri e propri dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, all'invisibilità di tutti coloro che sperano di poter raggiungere le coste italiane, invece finiscono bambini, soprattutto i quanti ce ne sono stati, che finiscono sotto il mare e sono invisibili, perché? Perché si portano con sé una vita che non riesce a diventare tale, quindi una categoria di invisibilità che è destinata ad espandersi secondo le interpretazioni che uno fa leggendo questa, che all'inizio voleva essere una storia anche divertente come ha fatto notare il vostro compagno, ma che ha ovviamente dei momenti che possono portare a pensarla diversamente, in senso diciamo drammatico. Se non sei soddisfatta della risposta di no, non sono soddisfatta. No, no, va benissimo, grazie mille. Prego. Grazie Andrea per questa risposta. La domanda che volevamo porti è, sul retro di questo libro c'è scritto che Genitori Cercasi è una tragica commedia, perché tu lo definiresti così e come spiegheresti questa lettura a chi magari non ha mai affrontato questo libro o magari non l'ha terminato? Ma il fatto che sia una tragica commedia è legato a delle mie caratteristiche che trovano maggior rilievo anche negli altri romanzi e nelle altre storie, cioè l'essere ironico ed autoironico, quindi l'affrontare situazioni anche drammatiche cercando di mediare un po' il dramma con l'inserto dell'ironia. Quindi tanto per dire, io non ho mai affrontato la scrittura di Genitori Cercasi con l'intento di fare, che ne so, il moraleggiatore, di dare lezioni di morale a chiunque sapendo che sono io uno dei primi peccatori. Però non mi sono negato l'aspetto drammatico della cosa, perché raccontare la vita di un bambino che nasce per caso, non voluto e che quindi di questa situazione patisce poi delle conseguenze serissime, perché vero è che è una storia, ma se noi pensiamo a quello che può capitare nella realtà è che capita, perché capita, capita anche oggi che i bambini vengano affidati alla cosiddetta ruota, voi sapete cos'era la ruota? E la ruota era una sorta di meccanismo operante in antico, ma poi in antico neanche tanto, dove i bambini non voluti venivano deposti, questa sorta di ruota girava, il bambino veniva ritirato da istituti prevalentemente religiosi e subiva chissà che destino, quindi un destino che ovviamente i genitori ignoravano del tutto, quindi era destinato a crescere sicuramente ben accudito, ma senza quello che è la famiglia, cioè il valore fondante di avere una famiglia. Quindi non so perché sono arrivato alla ruota, ma giusto per arrivare a dire che queste cose che capitavano in antico capitano anche oggi e quindi non si può negare l'aspetto drammatico di una situazione del genere. Beninteso, al dramma, come ho detto all'inizio, l'inserto dell'ironia mi è servito proprio per dare al racconto una dimensione più romanzesca piuttosto che non diciamo da piccolo saggio o addirittura da libercolo moraleggiante. Grazie. Prego. Volevamo chiederti sempre il significato di alcuni termini utilizzati sul retro del libro. Abbiamo visto che l'ambientazione è definita una fin troppo operosa provincia. Secondo te essere attivi con o senza anche il telefono che appunto tiene molto attivi i genitori di Verarus toglie tempo agli affetti e alla famiglia in generale alle cose che sono un po' più importanti della nostra vita? Non ho capito la parte centrale della domanda. Scusa, è difetto mio, non tuo. Nessun problema. Se secondo te essere troppo attivi sia con che senza il telefono toglie un po' il tempo alle cose più importanti della vita come gli affetti e la famiglia? Beh, se per essere troppo attivi tu intendi andarsi a cercare situazioni che possano occupare il tempo, occuparlo comunque e dovunque, direi che ha lo stesso effetto dell'usare in maniera esagerata il telefono. Cioè all'interno della famiglia sono necessari degli spazi diciamo di relazione. Cioè non è necessario che dalla sveglia al mattino una famiglia debba essere occupata con qualcosa per arrivare poi a morire di sonno alla sera e quindi cadere nell'oblio e dire domani è un altro giorno. Per oggi l'abbiamo sfangata così. È la stessa cosa che fanno i due deficienti protagonisti del libro. Il papà e la mamma, cosiddetti insomma, di vela russe, occupano il loro tempo per negarsi a quelli che sono invece gli obblighi, devo dire, di un genitore, di una madre e di un padre. Alla stessa maniera se questi genitori anziché occuparsi solo di affari, andare in giro per il mondo, aereo di qua, aereo di là, avessero operato altrimenti ma in modo tale da negare quegli spazi di comunicazione all'interno della famiglia il risultato sarebbe stato lo stesso. Ed è questa la cosa che tu hai sottolineato. Forse è una cosa che capita molto più spesso all'interno. Questa ansia di avere sempre comunque qualcosa da fare, qualcosa da vedere, qualcosa diciamo di concreto per le mani, non dedicandosi a quelli che sono gli aspetti più, come dire, più intimi ma anche più importanti della nostra crescita interiore, psichica, dell'anima, chiamatela come volete però, di ciò che fa dell'essere umano un uomo o una donna, insomma, una persona senziente, una persona in grado di comunicare le proprie esperienze, le proprie ricchezze o di arricchirsi attraverso quelle altrui. Un'altra domanda. Leggendo questo libro abbiamo visto come tu hai rappresentato i genitori del protagonista come persone che vivono in modo molto frenetico. Sì, io li ho anche odiati questi due a un certo punto. Quindi la domanda era questa. Secondo te questa modalità di essere genitori può realmente esistere o a volte può essere una caricatura esagerata? No, allora in questo caso è una caricatura esagerata, però tu l'hai detto, è una caricatura e come tale è esagerata. Quindi esagera dei modi d'essere, dei comportamenti che invece ahimè ci sono. E sono comportamenti che la cosa non vi meravigli. Io posso osservare anche nel piccolo mondo in cui sono nato, cresciuto, in cui vivo quotidianamente e che mi capita sotto gli occhi di osservare. Sono atteggiamenti che ho pescato nell'osservazione quotidiana e poi esagerandoli in maniera assolutamente caricaturale gli ho fatti diventare gli atteggiamenti di questi due genitori. Ma non è necessario essere così estremi come questi due per arrivare poi a risultati si fatti. E si colgono questi risultati non tanto attraverso i sintomi, ma attraverso i segni di una persona. Nella pratica medica c'è una differenza sostanziale tra il sintomo e il segno. Il sintomo è quello che tu, un tu generico ovviamente, non te la sto tirando, come malata riferisci a me come medico. Il segno è quello che tu non cogli, ma che io come medico devo riuscire a cogliere visitandoti. Ecco, a volte il sintomo non viene riferito, ma il segno si vede assolutamente. E il segno sono i comportamenti difformi, che sono quei comportamenti volti a occupare un vuoto spesso e volentieri affettivo. Grazie. Volevamo procedere su un'altra domanda, sempre un po' sui genitori. Perché non hanno un nome? Cioè perché magari volevi rimanere comunque un po' distaccato o per un altro motivo? Perché non se lo meritano. Nomen omen, dicevano i latini. Cioè il nome a volte definisce la persona, le sue definizioni morali, etiche, eccetera. Questi due sono due deficienti, lo ribadisco per la terza o quarta volta. Non meritavano di avere un nome quale che fosse, perché sono due esseri inconsistenti. Quindi andava benissimo così, tant'è che anche il nome di Velarus non è, non andatevi a, come dire, a sperimere il cervello per intuire che diavolo non ha nessuna etimologia latina, eccetera. Io Velarus l'ho tratto dalla sigla di un'agenzia di viaggio, era Velabus, mi piaceva e ho fatto Velarus e ho risolto. Ma l'ho risolta come la risolve la madre. Velarus come nome va bene? Sì va bene, perché non gliene frega niente, non importa che si chiami Velarus o Andrea o Filippo o quel che l'è. Un nome va bene, diciamo come se fosse un cane, gli dai un nome, a quello si abitua, tanto poi non lo devono neanche chiamare perché non ci sono mai. Parlando sempre del nome del protagonista, abbiamo visto che nelle prime pagine il protagonista Velarus ci dice che a lui non piace questo nome, ma perché allora non lo cambia, visto anche l'odio per i genitori che le l'hanno dato? Perché capisce fin da subito che è capitato ciò in un mondo dentro il quale non avrà alcun futuro, non avrà niente da fare, non crescerà, non svilupperà le sue doti, lo aspetta praticamente un'altra dimensione. E quindi in quest'altra dimensione ha anche il nome, che è l'unica cosa poi di pratico che ha, perché d'altro non ha assolutamente niente. Ecco in quest'altra dimensione nemmeno il nome gli farà gioco, gli servirà a qualcosa. Quindi a partire da quello lascia andare a un certo punto le cose così come vanno, consapevole che non le può assolutamente fermare, perché l'hanno destinato a quel tipo di vita, non può nemmeno decidere come affrontare il destino che lo aspetta, perché non ha assolutamente scelta. Ora volevamo passare a una domanda un po' più personale, quindi un po' che riguarda il tuo rapporto con il libro. Il fatto di essere genitore ti ha aiutato a scrivere il libro, o magari il fatto di scrivere il libro secondo te ti ha aiutato un po' a migliorare nell'essere genitore? Beh, ho un testimone eccellente in sala che potrebbe rispondere meglio di me. Sicuramente ci sono due aspetti molto importanti e diversi, di cui l'aver scritto questo libro è minoritario, c'è un aspetto che è minoritario nella cosa. L'aspetto più importante è questo essere stato ed essere genitore, un genitore che ha fatto anche i suoi begli errori nel corso della sua esperienza quale padre. L'importanza che l'essere genitore ha avuto nella conduzione, nella scrittura, nella compilazione del libro, è proprio stata rendersi conto dell'importanza di avere un ruolo genitoriale e quindi nel toglierla dal racconto. Quindi l'importanza, gestita bene o male, questo non spetta a me dirlo, dell'essere stato genitore, è stato quel blocco che io ho tolto per immaginarmi un non genitore completamente avulso dal suo ruolo genitoriale. Poi, perché se avessi raccontato le gioie e i dolori dell'essere genitore avrei scritto una cosa assolutamente diversa da questa, una cosa che tra l'altro non mi compete, non è nelle mie corde narrative. Quindi mi sono negato al ruolo di genitore per arrivare a immedesimarmi in uno che genitore non è perché non lo vuole essere, perché non capisce cosa vuol dire essere genitore e non gli interessa nemmeno capirlo, insomma, non ne frega niente di essere padre o sul lato opposto di essere madre. In Genitori Cercasi il protagonista è appunto Velarus che vive in assenza dei genitori, quindi secondo te cosa cerca lui nelle figure di riferimento che un po' vanno a sostituire il ruolo che i genitori avrebbero dovuto fare nella sua vita, quindi la babysitter... Secondo me non cerca niente, dico secondo me perché poi sicuramente ciascuno può avere la sua idea, non cerca niente perché non ha nemmeno la possibilità di cercare un sostituto della figura materna o della figura paterna, non le ha conosciute, non sa come sia fatto suo padre, non sa come sia fatta sua madre, quindi non sa cosa vuol dire avere in casa una madre e un padre con i quali discutere o litigare o andare d'accordo, quindi non ha nemmeno la possibilità di sperare di trovare un sostituto in quei ruoli fondamentali nella crescita di ciascuno di noi. Ragione per la quale io l'ho sempre vissuto come una sorta di nave alla deriva che va là dove i venti o le correnti lo portano, tant'è che lo portano in mano, in braccio a delle figure altrettanto scadenti, altrettanto inutili, che sono la prosecuzione del disinteresse profondo genitoriale e che lo avviano a questo stato di fantasiosa invisibilità e quindi ha la possibilità di adire a un altro universo, a un mondo parallelo, a un mondo dove abbia comunque una sua funzione che è quella che è raccontata nella storia, di poter comunque girare per il mondo, osservare quello che capita nel mondo andando a far parte di una comunità di invisibili, per le più svariate ragioni, comunque invisibili al pari di lui. Ora sei uno scrittore, ma prima eri un medico e entrambe queste professioni alla fine hanno un po' a che fare con le persone e i rapporti umani, quindi volevamo chiederti se secondo te la solitudine, che comunque un po' ve la rosprova, è un problema del presente? Allora, che sia un problema del presente è indubbio, credo che sia indubbio. La cosa alla quale non riesco a dare una risposta precisa è se ci si rende conto che questa solitudine sia una dimensione che a volte uno si crea, cioè che si crea attorno senza rendersi conto che così facendo resta da solo, diminuendo la possibilità delle relazioni interpersonali, cioè riducendo la comunicazione del sé, quindi rinunciando alla comunicazione delle esperienze, rinunciando a un sacco di cose che diventano una sorta di gabbia dentro la quale si resta sempre più costretti, una gabbia, una sorta di corazza che diventa sempre più difficile poi spezzare per uscire, anche perché poi il tempo passa, il tempo non aspetta nessuno, o noi passiamo all'interno del tempo, questa è una cosa che ciascuno di noi deciderà per sé, e non c'è niente di più vero che il tempo perduto non ritorna più, il tempo per stabilire delle relazioni franche, assolutamente appaganti, è un tempo definito, passato il quale non è più possibile, cioè, come dire, io avevo al liceo un professore di filosofia che ci diceva studiatela adesso la filosofia, perché? Perché poi dopo, quando andrete a lavorare, non avrete più il tempo di studiarla, quel tempo lì io l'ho perso, ho perso e la filosofia non la conosco. Ecco quello che mi fa spavento pensando al tema della solitudine, una gabbia dentro la quale a un certo punto sei talmente costretto, sei talmente legato, che non hai più la possibilità di uscire, non hai più la possibilità di recuperare gli strumenti per vincere la solitudine. Non so, è come se tu per vent'anni ti abituassi al silenzio, e poi prova a non parlare per vent'anni, e dopo vent'anni cerca di parlare. Manca anche l'attitudine muscolare al movimento della lingua, manca l'attitudine cerebrale a formulare le parole che costituiscono un pensiero e che poi lo inviano alla lingua e lo comunicano all'esterno. E' quello che della solitudine mi fa spavento, mi fa paura, e credo che situazioni di questo genere siano molto più incombenti oggi rispetto a 20-30 anni fa. Questo non per dire dei bei tempi antichi, ma perché mi sembra un'osservazione pertinente alle dinamiche quotidiane. Abbiamo visto che i tuoi ritmi di scrittura sono molto veloci, abbiamo visto quanti libri pubblichi e appunto abbiamo notato questa tua caratteristica. Potresti darci un consiglio, essendo noi un gruppo di lettura e scrittura, ma anche in generale, per come riuscire a vincere anche questa capacità? Beh, allora, ascolta, già se siete un gruppo di lettura e scrittura, qualche strumento in mano l'avete, di sicuro. Allora, la prima cosa l'hai detta, la lettura. Cioè la lettura, al di là delle scuole di scrittura creativa più o meno gratuite, la lettura è la prima scuola di scrittura creativa domestica che voi fate, senza spendere niente, spendendo quei 10 euro per un libro, eccetera. Ma è lo strumento che vi dà il vocabolario, che vi insegna veramente, grazie a coloro che ci hanno preceduto, che ci insegna come si racconta una storia, se volete raccontare una storia. Ecco, per raccontare una storia però bisogna avere in mano la storia da raccontare. Ecco, con la storia da raccontare, la lettura vi può indicare quelli che sono i passaggi fondamentali affinché sia una storia comunicabile ed eventualmente apprezzabile anche da parte degli altri. Poi io credo, ma parlo per me perché questo è un mestiere, è un'attività, è un lavoro, è un lavoro anche. Certo non è un lavoro faticoso come, che ne so, depore asfalto sulle autostrade il mese di luglio, però ha una sua fatica. E quindi non bisogna credere che sia invece tutto e solo legato all'ispirazione, c'è questo Spirito Santo che ti viene giù dal cielo e che ti dice oggi scriverai un capolavoro. Non è vero. A volte, cioè gli geni nascono, ma ne nasce uno ogni tanto. Quelli che nascono dopo sono, come dire, artigiani di questo meraviglioso mondo che è la scrittura. E allora, così come tutti gli artigiani del mondo, questa è un'attività che si pratica con il lavoro quotidiano, ad esempio. Il lavoro quotidiano che sia esplicato nella lettura che nella scrittura. con la passione che lo mantiene. Cioè, senza passione è inutile che uno si metta a fare certe cose. Se non c'è una spinta reale, un godimento, un divertimento intimo nel fare un'attività del genere, è tempo perso. E senza la paura di confrontarsi con chi ne sa più di te. Non sto parlando di me. La cosa mi riguarda come esperienza, diciamo, personale. Io ho, cioè, non voglio fare il saccente, Dio me ne scampi, ma ho presente una cosa che disse Socrate e che ha riferito Platone. Ciò che si può insegnare imparo, che è una cosa meravigliosa. Cioè, non ciò che si può insegnare insegno. Io sto attento a chiunque mi possa insegnare una cosa, quale che sia la mia età, la mia esperienza, eccetera. Ecco, tutte queste cose messe assieme fanno di un aspirante scrittore uno scrittore. Poi dopo ci sono gli errori, gli sbagli. È giusto sbagliare? È giusto? Cioè, uno non può pensare, o perlomeno mi sembra, non può pensare di aver scritto subito il capolavoro. Il capolavoro magari nasce dopo dieci rifacimenti di una cosa che all'inizio sembrava un capolavoro. E poi un consiglio, qui tanto per smitizzare un po' la cosa, un consiglio per chi ha già scritto qualcosa, diciamo, e ce l'ha nel cassetto e non sa a chi farlo leggere. Non fatelo leggere ai vostri genitori, a proposito dei genitori, perché vi diranno che è bellissimo. E il genitore non può dirti che è una porcheria. Poi invece magari è una porcheria davvero. Quindi non fatevi illudere da chi vi vuole troppo bene, perché è così. Fatelo leggere a qualcuno di cui vi fidate, che possa essere un occhio critico e che vi possa dire che è bello qui, qui è brutto, qui veramente non si capisce niente. Forse vale la pena riscriverlo. Allora, stiamo giungendo alla fine dell'incontro. e quindi in questo momento il pubblico può farti una domanda all'oripiacimento. Il pubblico naturalmente è un po' così... Allora, visto che il pubblico è un po' così... È un po' silenzioso, tacito, credo che... Con piacere prendo parola, ma non per rivolgerti a altre domande, Andrea. Molto bene. Ti do del tu. Per cercare forse di coinvolgere più questa platea, brutalmente i miei studenti. Perché, grazie alle domande poste dalle due splendide fanciulle, in realtà le tue risposte ci hanno dato degli spunti che credo siano interessanti, perché la verità è che adesso siete qua, in questa aula, in questo istituto, in questa prigione, i salesiani, ok? Però la verità è che, raga, in maniera un po' disincantata, io qua vedo potenziali genitori, inutile che poi ci sarà chi farà delle scelte molto personali, c'è chi deciderà di non avere figli, questa è la vita. Ma fidatevi, in percentuale, alcuni diventeranno papà e alcuni diventeranno mamme. Credo che sia un'ovvietà. Allora, partendo da questo presupposto, quindi non sto ponendo una domanda al nostro scrittore, al signor Vitali, ma a voi la pongo, è questo libro può anche servirci? Questo libro che cosa vi spinge ad essere? E allora, prima di rispondere a questa domanda, io credo che si possa fare una valutazione di più ampio respiro, perché io sono il genitore, perché il signor Vitali è stato un genitore, e ballano, non so. Lo sono ancora, perché è stato mi suonava male. E chiedo scusa, chiedo scusa anche al figlio. No, dicevo, ballano quanti anni? 20-30 di differenza? E allora, anche la figura del genitore cambia. Prima mi ha molto colpito questo pezzettino della risposta. Io li ho odiati. Io gli ho dati queste due figure. Nel costruire, nel tratteggiare i genitori del romanzo, il signor Vitali li ha odiati. Ecco, a me è servito questo romanzo, certamente, dirò una cosa banale, per capire e definire ciò che non voglio essere. Allo stesso tempo, e qua sarà un po' provocatorio, vi dico che a colloquio, con i vostri genitori, spesso trovo delle persone, non si deve dire, ma lo dico, invadenti, inopportune, troppo presenti. Ok? Allora, questo è anche il rovescio della medaglia. Qua c'è scritto genitori cercasi. Però è allarmante quanto a volte i vostri genitori siano presenti, invadenti. E allora torno indietro ancora di generazioni e generazioni. Quando si facevano tanti figli, ok? C'erano le cascine, c'erano magari 4, 5, 6 figli, a famiglia e si viveva in cortile. Ma questi genitori cosa facevano? Abbandonavano? È giusto dire il termine abbandonare i figli a loro stessi? C'era il mutuo soccorso. Erano allora assenti come questi genitori? Mio padre, sinceramente, uomo di un'altra generazione, lavorava. E aveva in mano il telecomando. E poi mi spiegava il telegiornale. Questi erano un po' i cliché. Ok? Posso dire che allora non mi ha cresciuto? Mi ha lasciato? A me stesso. Sono cresciuto da una figura che non è neanche mia madre, una zia. Perché loro lavoravano. Però non posso essere questi genitori qua. Non credo che siano questi genitori qua. Allora, vi sto parlando di tre possibilità. Le possibilità di questo libro, Genitori cercasi. Le possibilità opposte. I vostri genitori. Brutto dirlo. Però fidatevi che a volte i vostri genitori sono fin troppo presenti. Oppure quelli di una generazione infinitamente lontana dal nostro presente. Quella del dopoguerra. Ecco, ma voi ci avete mai pensato? Che genitori volete essere? Ecco, è una domanda prematura. Però io credo che anche questo pezzettino di libro, questo excursus, su quella che è una storia dell'Italia, degli ultimi 50-60 anni, possa essere illuminante. Perché non sarete i genitori di questo libro, non sarete come i vostri genitori. Perché io non sono come i miei genitori. Ora, la domanda che probabilmente non avrà risposta perché qua dubito che qualcuno abbia il coraggio di prendere mano al microfono è che genitori volete essere? E soprattutto questo libro almeno credo che definisca bene quello che non vogliamo essere. Questo è un primo spunto di riflessione. C'è qualcuno che ha il coraggio di rispondere? Allora, io direi che si aspira a diventare come mio padre perché semplicemente penso che sia un modello di genitore in quanto è una persona a cui puoi fare affidamento, una persona che c'è, presente e a cui puoi prendere solamente spunto. Nella mia genovinezza ancora non ho trovato aspetti negativi dal dire questa è una brutta persona, non voglio diventare come lui, anzi è una persona che mi dà sicurezza e quindi anche poter dire voglio provare ad assomigliare a quello che è mio padre è tanto per me. Andrea, prego. No, beh, lui, Andrea, Andrea, no, è una una bella risposta, cioè una bella posizione la tua nei confronti diciamo di tuo padre, molto diversa dalla mia nei confronti di mio padre che sembra una cosa brutta da dire ma non lo è per il fatto che io sono cresciuto tra altre cose non crescevano famiglie numerose solo nelle cascine prof, io sono il primo di sei siamo nati in Riva al Lago non c'erano cascine però va bene l'esempio poteva stare sì sì l'esempio ci sta e come anzi è anche evocativo ha una sua cornia un fascino diciamo evocativo abbastanza particolare mentre io a un certo punto ma anche prima di diventare genitore non ho voluto diventare diciamo come mio padre sembra una cosa brutta da dire non lo è assolutamente mio padre non menava non incatenava né me né i miei fratelli ma veniva da un tipo di come dire di educazione legata alla sua generazione naturalmente dove il padre posso dire comandava anche se vorrei svilire un po' l'imponenza diciamo di questo verbo però era necessario obbedire ecco l'obbedienza diciamo era dovuta e spesso era un'obbedienza dovuta senza alcun tipo di spiegazione senza niente che ti spiegasse questo obbligo all'obbedire e questa cosa è una cosa che mi ha sempre fatto riflettere a maggior ragione quando mia moglie e io abbiamo avuto il nostro figlio impostando quindi per quanto possibile il rapporto con lui in una maniera più più mediata capito meno rigida poi lo si diceva anche qui prima di avviare il discorso forse l'errore che si può sfiorare o che addirittura diciamo si fa è quello di cercare di diventare amici del proprio figlio ed è una cosa che stona in un rapporto diciamo genitore e figlio forse il genitore non se ne accorge ma il figlio sì e rifiuta diciamo un rapporto di amicizia che invece deve essere destinato ad amicizie a quelle vere quelle che accompagnano invece la generazione del figlio quindi tra queste due posizioni la tua che hai un riferimento estremamente positivo a tuo padre nei confronti del tuo padre e la mia che ho un riferimento non negativo credo di averlo spiegato ma comunque diverso c'è la possibilità di mediare e nulla a che vedere se naturalmente con i genitori raccontati in questa storia qualcun altro vuole dare un contributo se no io avrei un'altra domanda un'altra riflessione che divaga da il tema genitori qualcun altro nessuno beh era una malalzana è pericoloso un bel gioco è un bel gioco che fa molto scuola allora questa cosa questo desiderio di condividere con te questa riflessione nasce anche dall'incontro precedente con l'autore Robecchi in quanto gruppo di scrittura lettura si cercavano che cosa quel suggerimento quel desiderio di migliorare la propria scrittura e anche lui come te un po' il consiglio è stato quello ragazzi leggete è inutile che ci giriamo intorno leggere vuol dire imparare a scrivere allora io volevo un po' in quanto sono e mi capita di fare il correttore di bozze ok sono curioso di capire questa cosa perché in realtà non ho lavorato con tanti scrittori con tanti autori tu quando finisci un libro ok quante volte l'hai riletto c'è timore c'è reverenza nel darlo a qualcun altro o semplicemente dici va bene ok la mia parte l'ho fatta adesso subenta un altro professionista perché questi ragazzi almeno i miei ragazzi i nostri ragazzi davvero ti consegnano un tema che non voglio più vedere in tutta la mia vita e non si rendono neanche conto con una prima semplice lettura che ci sono delle cose che non vanno mentre studiamo poi dalla terza superiore la quarta e la quinta i grandi autori della letteratura che prima edizione seconda edizione labor libe adesso semplicemente la ventisettana la quarantana passavano Ariosto c'è messo 32 anni per rivedere la sua opera ecco tu hai dei tempi sono emersi prima molto veloci ma come ti poni sulla chiusura di un lavoro ma non sono tempi così veloci come può come può sembrare cioè sembrano veloci guardando le scadenze d'uscita ma bisogna tenere conto diciamo che il libro che esce oggi è rimasto che ne sono nel cassetto due tre quattro anni io ad esempio pubblicai un libro che si intitola la gita in barchetta tre quattro anni fa occhi e croce che è rimasto nel cassetto vent'anni allora la mia abitudine è quella di chiudere chiudere una storia come ho fatto recentemente la settimana la settimana scorsa non rileggerla assolutamente e infilarla nel cassetto lasciandola lì fino a che non dico me la sono dimenticata ma fino a che sono passati mesi e mesi questo perché naturalmente il discorso del tema è molto diverso perché il tema tu lo devi fare però lo devi consegnare al prof io non devo consegnare al professore quindi ho il tempo di lasciare il testo nel cassetto per mesi veramente mesi in modo tale che quando poi lo rilego mi trovo di fronte a una cosa che non oso definire nuova ma lo è in molti passaggi perché me ne sono dimenticati ma soprattutto di fronte a una cosa che sta evidenziando tutti i difetti le manchevolezze gli errori le parti che vanno sistemate che all'inizio non immaginavo nemmeno ragione per la quale la rilettura di un testo a distanza di mesi a volte addirittura diciamo di anni ti propone delle soluzioni nuove diciamo sicuramente la possibilità di migliorare il testo aggiungendo o togliendo sia ben chiaro perché i testi migliorano sia con l'aggiunta sia col togliere diciamo determinate e cose e solo quando mi sento in pace nei confronti di questo testo allora lo passo lo passo diciamo al mio editor in casa editrice che è la figura che è il primo occhio critico esterno alla famiglia che prende visione diciamo di quello che ho scritto e dico esterno alla famiglia perché all'interno della famiglia io ho in mia moglie la prima lettrice diciamo di quello che scrivo ahi lei le è capitata questa disgrazia oltre a tante altre e quindi e quindi è come dire la prima lettrice di fronte alla quale io spio soprattutto la mimica facciale perché è esternamente importante anche la comunicazione non verbale la mimica facciale esprime molto di quello che uno pensa anche se non lo non lo traduce subito in parola fatto questo questa serie diciamo di prove familiari allora il testo può prendere la via dell'editore e poi dopo sentire il parere diciamo di altri grazie allora prima di lasciare magari la parola anche agli altri prof che vogliono esprimere il loro contributo io mi permetto una battuta ok è che i nostri ragazzi si sentono in pace subito cioè loro sono pronti a consegnarlo subito questo tema il tempo è tiranno però bisogna anche bisogna anche dirlo insomma tieni Valerio una domanda sempre sullo scrivere soprattutto per quelli che sono a casa e che partecipano al concorso opera prima nei suoi romandi c'è spesso un'ironia sono intrisi di ironia ma l'ironia parte dallo sguardo dal modo con cui si guarda la realtà la realtà soprattutto del lago della provincia che viene descritta oppure parte è un problema espressivo questo lo chiedo per tutti quelli che vogliono lavorare in questa direzione ma io credo allora che l'ironia faccia parte come dire di quel complesso di potenzialità dell'animo dell'animo umano ciascuno di noi ha la possibilità di sfruttare quest'arma potente che è l'ironia nel mio caso è una come dire è un po' una virtù se posso chiamarla così di famiglia sviluppata attraverso l'autoironia io l'ho detto primo di sei figli tutti nati abbastanza vicini uno all'altro quindi una sorta di asilo infantile domestico eccetera dentro il quale ci si ci si giocava ci si prendeva anche in giro si stava allegri si viveva proprio grazie all'arma dell'ironia e dell'autoironia perché attenzione non è possibile secondo me praticare con divertimento d'altri l'ironia se non si è autoironici e con l'autoironia non ci si monta troppo la testa questo è un dato è un dato di fatto quindi quando mi sono accorto diciamo di poter padroneggiare abbastanza bene quest'arma l'autoironia ho cominciato anche a padroneggiare quell'altra l'ironia accorgendomi che era il come dire il il sapore che dava il sapore diciamo a molta parte delle mie storie se a queste storie diciamo se queste storie vengono private di quello dell'apporto diciamo dell'ironia si riducono veramente a ben poca cosa per cui è un aspetto dello scrivere che ho sempre tenuto in molta considerazione e che cerco diciamo di raffinare sempre di più col passare del tempo e col passare delle storie non è una caratteristica solo diciamo dei piccoli posti anche se diciamo nei piccoli posti è un'arma che permette di sopravvivere molto più che diciamo nei centri urbani come Milano o altrove insomma è come dire è quell'arma che ti permette di occupare le fasi di stanca di una di una quotidianità che a volte sembra veramente troppo ripetitiva che potrebbe portare veramente a una noia esiziale ecco un'altra cosa rispetto a quest'ultima che lei diceva noi viviamo in città ma la provincia cos'è per lei che cos'è nei suoi romanzi beh per me la provincia non è solo nei miei romanzi la provincia è l'essenza della mia vita è l'essenza della mia vita perché allora la provincia per me innanzitutto all'inizio è stata paesaggio cioè la mia provincia è nata proprio come paesaggio come scoperta di un paesaggio incantevole lo posso dire che mi ha che mi ha radicato lì e successivamente diciamo all'interno diciamo di questo paesaggio ho scoperto la vita che questo paesaggio racchiudeva ora c'è una una sorta di sentenza di Piero Chiara altro grande autore diciamo di romanzi nato sul Lago Maggiore romanzi diciamo che sono autentici testi diciamo di scrittura creativa allora lui c'è questa sentenza in cui lui afferma che la vita in provincia è come il fuoco che arde sotto la cenere per vedere trovare questo fuoco questa vita bisogna soffiare via la cenere naturalmente altrimenti non la si nota ecco dopo la scoperta diciamo del paesaggio io ho avuto la fortuna di scoprire questa questa vita che sembra una vita minimale cioè una vita proprio ridotta ai minimi termini ecco nessuno si lascia ingannare da questa falsa apparenza perché vi dirò una cosa che vi stupirà anche in provincia abitano uomini e donne esseri umani tale quali a voi che sono spinti dalle stesse vostre ambizioni hanno il vostro hanno le stesse vostre caratteristiche psichiche morali etiche eccetera non dimenticatevi quando affrontate la provincia cioè va affrontata come un luogo del mondo ecco la provincia è un luogo del mondo e il mondo è fatto da tanti luoghi tanti luoghi tante cellule fanno un organismo tanti luoghi fanno il mondo creato ragazzi qualche ripensamento l'ultimo qualche domanda magari poi il momento del firmacopie sarà un momento per avvicinare e far uscire quelle domande che in pubblico magari uno non si sente di fare chiudiamo quindi l'incontro intanto ringraziandoti veramente tantissimo grazie grazie noi ci salutiamo però ci salutiamo come da tradizione qui e la stessa domanda forse non ricordai la stessa domanda di cinque anni fa o quando è stato il nostro incontro perché la chiusura è sempre la stessa qua da noi perché scrittura e lettura sono due facce della stessa medaglia abbiamo parlato tanto di scrittura ma ci vuoi dare lasciare un titolo da consigliare ai ragazzi qua davanti una lettura che per te magari è stata importante e che ti senti di suggerirci come lettori ma lettura ma lettura recente o lettura qualunque una lettura significativa per te sia un classico che invece contemporanea abbiamo qua di fianco una bella libreria da andare a prendere subito ecco beh allora mi piace come dire provocarvi in senso positivo naturalmente dandovi due titoli cioè due romanzi due romanzi cancellate quello che ho detto allora il primo titolo è il libro che mi ha come dire che mi è rimasto nel cuore nell'anima eccetera che è l'Odissea ed è veramente c'è una lettura affrontatela adesso aspettate fra un po' ma aspettate il momento giusto per veramente per godervela perché vi apre poi un mondo praticamente infinito e un altro libro estremamente impegnativo ma che mi ha mi ha fatto riflettere molto è di Murakami Haruki scrittore diciamo giapponese io lo titolo 1984 ma c'è una più una di mezzo è 19Q4 è un libro che particolarmente impegnativo diciamo non difficile impegnativo che però apre veramente una prospettiva diciamo su altri mondi su altre possibilità su su una possibilità di pensiero che forse che forse ci sfugge perché siamo troppo presi dalla quotidianità è un libro che comunque ti astrae dal momento e ti fa ragionare un suo riassunto in termini proprio di motivi di fondo potrebbe essere dello stesso autore la ragazza dello Sputnik perché c'è un tema che sembra in nuce nella ragazza dello Sputnik che invece in 19Q4 viene molto più dispiegato mi farete sapere il prossimo incontro se vi ho dato qualche un consiglio che valeva la pena di accogliere ti aspettiamo allora grazie a tutti grazie